Seduto in questa deliziosa saletta all'interno del museo della Fondazione Fioroni a Legnago, mi viene da pensare che questa stanza potrebbe essere archetipica di una stanza abitata non dal Dostoevsky che fa da protagonista al mio romanzo ma al suo alter ego avversativo non perciò disestimato ma per certi versi tenuto a distanza, parlo di Tolstoi. Tolstoi e Dostoevsky hanno avuto una situazione conflittuale non per loro volontà ma perché così sancita dalla storia delle lettere russe. Tolstoi ha osteggiato Dostoevsky senza avere nessuna intenzione di farlo, lo ha osteggiato col suo semplice e maestoso esistere e preesistere in qualche modo a Dostoevsky e sopravvivere molto a lungo. Tolstoi è entrato nel pieno del Novecento, addirittura è stato un candidato al premio Nobel e quindi può anche stupirci il fatto che non l'abbia avuto, parliamo di Tolstoi, tanto più pensando che l'anno in cui avrebbe potuto essere omaggiato del Nobel, il Nobel andò a Momsen che è un autore di grande rilievo se si studia la storia di Roma, quindi siamo nell'ambito della letteratura storica ma che nulla a che fare con la letteratura è stato cura. La fama di Dostoevsky successivamente alla sua morte avvenuta nel 1881, quindi abbondantemente all'interno del XIX secolo, in realtà è stata una fama da presto compromessa dagli eventi, dal grande magistero della presenza dostoiana e poi dagli eventi della storia che porteranno fino alla rivoluzione russa. E qui dobbiamo di nuovo chiamare in causa la nostra protagonista, quella del nostro romanzo, cioè Ania, perché Ania che è diminutivo di Anna, quando supererà l'età della fanciullaggine in cui ha conosciuto il suo Fiodor Micario, dice se n'è innamorata, lo ha fatto innamorare di sé a dispetto dello scandaloso di vario d'età che rasentava non i trent'anni ma quasi, diventerà poi Anna Dostoevsky, per quattordici anni sarà la moglie di Dostoevsky fino alla sua morte, avvenuta appunto come ricordiamo nell'81 e formerà con lui una vera azienda letteraria, provvederà alla diffusione nel mondo delle opere di Dostoevsky e dopo la morte Dostoevsky provvederà anche a tenerne viva la memoria, insistendo a sollecitare traduzioni, contribuendo a far scolpire statue che venissero messe anche nelle piccole piazze delle province dell'impero, al contrario Tolstituciò non aveva bisogno e ora siamo in un mondo come dicevo all'inizio più tolstoiano che dostoevsky, questa non è certo una stanza che avrebbe potuto appartenere a un luogo di vita di Dostoevsky, chi andasse a Pietroburgo può vedere la casa dove Dostoevsky ha vissuto con Ania, per dirla in termini molto usuali potremmo parlare di due camere cucina, veramente siamo in un appartamentino molto ridotto all'interno di un condominio con lo stretto necessario per far vivere una piccola nidiata di figli una moglie e un marito che in più lavorava in casa, quindi c'è il suo studio, la stanza dei bambini con i giocattoli, un boudoir, veramente poco di più, questa è stata la casa di vita di Dostoevsky, qui invece c'è un clima di enclave letterario, questo è un salotto dove la letteratura forse più che produrla può essere discussa, è bellissimo stare qui, è bellissimo stare qui di fatti non per scrivere ma per parlare di scritture avvenute, in questo caso vanitosamente ho parlato di una mia scrittura, si parla di una mia scrittura, di un mio romanzo, ma qui tutto sa di dibattiti letterari o artistici, visto che di fronte a me ho il ritratto di Cavalcaselle che proprio in questi ultimi tempi ho appreso chi fosse, quindi ho potuto scoprirne il ritratto dicendo so chi è e non ho dovuto domandare chi fosse. Cavalcaselle è stato probabilmente il padre fondativo della moderna critica pittorica, parliamo di un personaggio dell'Ottocento, per motivi di altra mia scrittura sto leggendo le meravigliose pagine di Roberto Longhe che ci è molto più noto e presente, sicuramente il più luminoso fra gli scrittori d'arte del Novecento, maestro di Pasolini, l'unico che Pasolini abbia riconosciuto come proprio maestro e gli ho scoperto Cavalcaselle e ora l'ho di fronte a me, quindi penso che in questa saletta si sia parlato tanto di letteratura contemporanea, di letteratura moderna, antica, perché c'è tanta epoca remota che alleggia attorno a questa stanza e pittura.